Ultimi preparativi a Calozzo Corte in vista del corteo storico della Valle San Martino. La manifestazione si terrà anche quest'anno nella giornata dell'Epifania, alle 15 prenderà il via il corteo storico, ma la manifestazione interesserà l'intera giornata. Quanti sono i personaggi figuranti che sfileranno? Sono all'incirca 300 personaggi in costume d'epoca. Quest'anno avremo in piazza gli artigiani che lavorano e sono una decina di persone che fanno lavori a carattere dimostrativo di epoca medievale. È interessante appunto vederli all'opera. Chi organizza il corteo storico? È la parrocchia San Martino con il patrocinio del comune della Proloco di Calozzo. Da quanto tempo ci state lavorando? Come sempre si comincia a settembre a predisporre un po' il tutto, ricerca di personaggi, finanziamenti e tutto quello che serve per mettere in piedi la manifestazione. Ci sono le due bande cittadine, le persone vengono contattate personalmente e ben volentieri ormai c'è lo zoccolo duro dei partecipanti che non si tira indietro alla richiesta di partecipazione. Personaggi del presepe non solo? Sì, abbiamo i classici personaggi biblici più personaggi storici locali. Il corteo inizierà da piazza Arci Presbiterale con il volo dell'Angelo dal Campanile, proseguirà lungo le vie centrali di Calozzo Corte per poi il gran finale, la rappresentazione storica nella chiesa Arci Presbiterale. È una rappresentazione dei magi che offrono i doni a Gesù Bambino. Il corteo inizierà da piazza Arci Presbiterale con la chiesa Arci Presbiterale con la chiesa Arci Presbiterale con la chiesa Arci Presbiterale. Arci Presbiterale con la chiesa Arci Presbiterale. Grazie mille! Grazie a tutti.